Bene, oggi siamo al nostro penultimo incontro e dobbiamo, se vogliamo ovviamente, leggere e capire un tema delicatino, che è il tema del perdono. Noi siamo abituati, ormai abimemorabili, a dire quello che è scritto al versetto 11, lo diciamo ovviamente in forma italiana, lì c'è la traduzione, la pretesa traduzione ad litteram del testo greco. Il testo greco rimette a noi i debiti di noi come anche noi rimettiamo i debitori di noi. Quel di noi è diventato nostro, ma il testo greco ha questo genitivo plurale, emong. Questa è la tradizione di Matteo, quella a quale noi siamo abituati. C'è però anche la tradizione della dita che, questo testo catechistico, redatto nella sua parte più antica, prima del 70, dopo Cristo, che dice rimetti a noi il debito singolare, di noi come anche noi continuiamo a rimettere ai debitori di noi. C'è questo afiemen, che è un presente. Il Padre Nostro di Luca, ancora diverso. Se notate, la diversità è data da piccolissimi cambiamenti. Rimetti a noi i peccati di noi, e infatti noi stessi continuiamo a rimettere a ogni debitore a noi. Queste sono, dunque, le tre formulazioni attraverso le quali ci è arrivato il pensiero del Maestro. Ora, perché questa triplice formulazione? Perché probabilmente il testo aramaico originale era un testo pregnante e non riuscivano a veicolarlo nella sua ricchezza nella lingua greca. Perché la lingua greca, pur essendo una lingua molto bella, elastica, ha però degli schemi rigidi. E quindi, certe idee, che in ebraico e in aramaico si possono esprimere in maniera anche tutto sommato semplice, in greco non si possono far confluire due autostrade. In ebraico sì. In greco un'autostrada va da una parte e l'autostrada va dall'altra. In ebraico, invece, si possono far confluire, far convivere due autostrade senza difficoltà. E allora cerchiamo, prima di capire cosa dice il testo, cerchiamo di capire i singoli componenti e le singole forme. Siamo alla linea 10. La prima espressione in grassetto dice TA OFEILEMATA ed è un plurale. Alla linea 12 tenofeilen non è il singolare di OFEILEMATA. Il singolare di OFEILEMATA è OFEILEMA. OFEILEE è un altro vocabolo. Sono sinonimi abbastanza. Quindi non c'è grossa difficoltà. Con Luca, invece, noi abbiamo un salto di vocabolario. Noi abbiamo AMARTIA. AMARTIA, a MARTANO, significa fallire il bersaglio. Ed è un concetto che è greco. Mentre invece OFEILEMATA o OFEILEM è un concetto semitico. Dove sta la differenza? La differenza sta in questo. Nel mondo semitico il rapporto con la divinità sia nel mondo ebraico sia fuori del mondo ebraico è stabilito da una alleanza. Nell'alleanza noi vediamo che ci sono degli impegni da parte dei due contraenti. conosciamo diversi documenti cuneiformi dove abbiamo questi trattati di alleanza e dove con chiarezza ci sono gli impegni del sovrano più forte nei confronti del sovrano più debole e viceversa. Anche nell'Antico Testamento noi abbiamo il documento di alleanza tra Dio e il suo popolo ed è un documento lungo cinque libri il Pentateuco dove ci sono gli impegni di Dio verso il suo popolo e gli impegni del popolo verso Dio in una specie di scambio commerciale di tipo spirituale io ti do e tu mi dai. nel momento in cui il popolo non compie le clausole gli impegni che si era preso Dio continua a dare e il popolo non dà un bel niente e quindi il peccato è equiparato a un debito. Perché? Perché alle spalle c'è questa istituzione chiamata Berit Alleanza Patto e quindi il vocabolario che ci troviamo davanti alla versione matteana e alla versione della Didache è un vocabolo che rispecchia la mentalità semitica sotto a questo vocabolo c'è il pensiero di Gesù. il termine invece amartia peccato fallimento del bersaglio appartiene al mondo greco il mondo greco nei confronti della divinità non ha nessun tipo di impegno morale non c'è il concetto di fedeltà a Dio non c'è il concetto di scambio io ti do tu mi dai nel mondo greco l'etica dipendeva dalla scuola filosofica che tu sposavi e quindi queste scuole filosofiche e questi modi di pensare avevano degli obiettivi qualunque tipo di sistema filosofico tu avessi sposato avresti acquisito degli obiettivi da raggiungere comportarsi in maniera non conforme a quelli che erano i principi di questa scuola filosofica significava mancare il bersaglio parola amartia è chiarissima c'erano anche altri due nomi per indicare ciò che noi chiamiamo il peccato c'era la parola adichia la diche e la giustizia adichia azione senza giustizia questo è un concetto diciamo così della maturità del pensiero greco quando nel mondo greco si elabora in maniera estremamente fine il concetto di coscienza la tragedia dell'antigone è forse il punto più alto o uno dei punti più alti che il mondo greco abbia raggiunto dove si pone in netta antitesi la legge scritta con la legge scritta nella coscienza e questa ragazza processata per aver seppellito il corpo del fratello processata dall'altro fratello dice con chiarezza che esiste una legge non scritta che è molto più importante della legge scritta e allora il concetto di giustizia passa dalla legge scritta alla coscienza adichia è un termine che si rifà a questo tipo di valutazione io compio una cosa che non è secondo la coscienza corretta e si chiama adichia senza giustizia poi c'è invece un concetto molto antico che è la nomia nomos e la legge ha nomia senza rispetto della legge Luca ha scelto il nome Amartia perché perché deve rispettare la mentalità greca far capire i greci come stanno le cose ma contemporaneamente avvicinare questa mentalità greca a quella che è la mentalità originaria la mentalità semitica e allora adopera Amartia perché perché quando tu ti comporti male fallisci il bersaglio di essere come il tuo maestro cristianesimo è entrato nel mondo greco con una morale semplicissima tu devi essere come lui stiamo stiamo commentando il Padre Nostro vi ricordate no non vi ricordate primo nostro incontro dove abbiamo visto le due redazioni del Padre Nostro una in Matteo una in Luca Matteo mette il Padre Nostro al centro del discorso della montagna mentre invece ed ecco qui la sfida non so se ricordate dove la mette Luca Luca non mette il Padre Nostro nel discorso della montagna ma prima ti presenta il modello Gesù Cristo che prega e poi i discepoli dicono insegnaci a pregare Gesù piazza il Padre Nostro ma prima c'è il modello e poi c'è il che cosa e come tu puoi imitare il modello questa mentalità la trovate diffusa in tutto il Vangelo di Luca e negli Atti degli Apostoli Gesù è il modello tu lo devi imitare il peccato dunque è un sbagliare il bersaglio cioè tu non lo imiti è un concetto che cerca di passare dal mondo greco al mondo semitico cristiano e Luca altri strumenti purtroppo non ne ha perché gli altri due vocaboli sono lontanissimi dal pensiero cristiano per Paolo siamo alla linea 21 anomia e amartia non sono molto distanti la distanza c'è ma non è moltissima beati quelli le cui iniquità anomia sono state perdonate e i peccati sono stati ricoperti in Paolo i due nomi vengono adoperati con una sfumatura diversa da quella con la quale viene adoperato in Luca perché per Paolo esiste il peccato volontario e il peccato non volontario esiste il peccato fatto con cativeria dirà Sant'Agostino è il peccato fatto per debolezza peccato per cativeria anomia peccato per debolezza amartia sono concetti che bisogna prendere un po' con le pinze perché nel cristianesimo primitivo non abbiamo la precisione di vocabolario non è che Luca va da scuola di Paolo o Paolo da Luca e quindi adoperano le parole in maniera esattamente precisa hanno queste sfumature queste varianti di significato le forme verbali forme verbali sono un altro problema molto grosso sempre se voi comparate le tre frasette notiamo che l'invito fatto nella preghiera dall'uomo verso Dio è sempre uguale afes rimetti perdona cancella ma ben c'è una variante nella seconda parte della frase in Matteo avete afekamen è un'azione puntuale oppure è un principio mentre nella didache avete un presente dal verbo afiemi e Luca ha un presente dal verbo afio è una variante di afiemi nel greco ellenistico sono due presenti didache e Luca Matteo invece ha una forma puntuale ora c'è una grossa differenza fra questi due fra queste due forme tra questo auristo e questo presente perché il presente indica un'azione continuativa mentre invece questo afekamen potrebbe indicare un principio ma potrebbe indicare un'azione puntuale se indica un'azione puntuale questa azione quando viene fatta una volta sola ma Gesù dice no tu devi perdonare 70 volte 7 cioè sempre allora questo tipo di formulazione potrebbe essere capito come quell'atteggiamento che il credente ha alla fine della sua vita dove lui abbandona tutti i risentimenti odi conti in sospeso e dice mollo tutto perdono tutto e questo è il significato è un po' dirlo perché perché c'è quella particella che fa pensare parecchio alla linea 10 oscai questo oscai significa come anche rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimetteremo i nostri debitori se un'azione puntuale fatta alla fine della vita la formulazione invece di Luca dice no tu perdona i nostri peccati e noi continuamente presente un'azione lineare continuamente perdoneremo i nostri debitori sono due prospettive diverse ed è anche la formulazione letteraria diversa quando si analizza con serietà questa formulazione diversa cosa viene fuori Luca dice tu daci il perdono faccelo sperimentare noi dopo perdoneremo agli altri continuamente ma prima tu poi noi perché il testo della linea 14 se noi dovessimo tradurre in un italiano un pizzico più elegante dovremmo dire rimetti a noi i nostri peccati affinché noi successivamente perdoniamo ai nostri debitori ad ogni nostro debitore tantio feilonti più o meno però a livello di concetto la stessa cosa la dice Matteo se interpretiamo quel affecamen come azione ultima nostra definitiva unica e totalizzante tu rimetti a noi i nostri debiti verrà il momento in cui anche noi perdoneremo tutto come tu hai perdonato questo è il problema questo è il problema quale è il pensiero originario proviamo proviamo e siccome e siccome Gesù ha rifiutato radicalmente di fare il filosofo sistematico ma ha insegnato il suo pensiero attraverso i racconti esploriamo questi racconti siamo alla linea 38 allora Pietro gli si avvicinò e gli disse signore se il mio fratello commette colpe contro di me quante volte dovrò perdonarli fino a sette volte in massimo l'ebreo non perdona ancora oggi perché c'è una legge al capitolo 21 del Deuteronomio che dice pagherai vita per vita occhio per occhio dente per dente piede per piede bruciatura per bruciatura tiè e noi pretendiamo noi occidentali che ci piaccia o meno formati alla mentalità del cristianesimo anche se siamo atei noi siamo abituati in occidente al perdono facciamo fatica ma siamo abituati in oriente la parola perdono non esiste e quindi se il mondo arabo dà uno schiaffo a Israele Israele restituisce lo schiaffo è inutile è inutile è un'altra mentalità e noi occidentali facciamo una fatica da morire a capire che loro hanno un'altra mentalità dovrebbero studiare gli occidentali dovrebbero studiare un pochettino più di ebraico di ebraico di ebraico di ebraico